Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Io vorrei tornare su cose diciamo su cui... Detto che ci sono due grandi passioni che dovete capire che i politici hanno mediamente, che sono i servizi segreti, perché pensano di essere James Bond col cravattino dove sanno tutto, e la RAI. E quindi la RAI o viene presa data una fondazione indipendente la cui nomina del CDA è fatta dal Presidente della Repubblica e si abolisce la Commissione di Vigilanza, oppure queste robe le vedremo sempre. Oppure si fa una scelta ancora più radicale, che è di dire il canone, cioè i soldi che noi diamo per avere una televisione di qualità, li diamo a chi fa i programmi di informazione, i documentari su tutte le reti, perché io pago per la qualità di tutto quello che vedo, non di quello che vedo solo su quel servizio. Io non so a chi li daranno, però c'è una proposta su dove prenderli. Vabbè, ma no.